In questi giorni di quarantena che dovrebbero durare fino al 3 aprile sono ancora diversi cittadini indisciplinati. Lo sanno bene i carabinieri della Valle Caudina, le prese ancora con automobilisti che vagano senza un motivo per le strade. È accaduto ad Airola dove sono state 203 le vetture fermate dai carabinieri, 78 gli esercizi verificati, un numero non precisato di pedoni sottoposti ad esame dell'autocertificazione. Al termine sono state elevate 18 denunce a carico di quanti sono stati sorpresi per strada. L'operazione ha visto l'attività congiunta della stazione dell'arma dei carabinieri della polizia municipale nonché la penitenziaria. Un'azione interforze proprio per dare un segnale fortissimo all'intera popolazione. Anche Montesarchio è una cittadina blindata, grazie anche alle nuove telecamere installate nel paese Caudino con l'acquisto di ulteriori 5 occhi elettronici che presideranno le zone interessate dal circolo delle auto ed eventuali assembramenti dei cittadini. Anche qui la parola d'ordine del primo cittadino Damiano è restare in casa il più possibile. A Benevento la municipale è in prima linea per il controllo delle strade. In questi giorni non sarà sola, avrà in dotazione il drone inaugurato qualche settimana fa allo stadio Cirovigorito. Il drone infatti potrà aiutare il corpo di polizia sorvegliando così dall'alto la città e aiutando alla ricerca dei trasgressori. Un drone che non supererà l'altezza dei 70 metri opera in un'area di oltre 250 metri. Non solo municipale che nella giornata di martedì ha visto controllo e tappeto tra gli automobilisti in circolo, ma anche la finanza che sta operando sugli esercizi commerciali. Infine, non per ultimo in questi giorni si sta procedendo anche alla sanificazione e disinfestazione di alcune zone della città da parte degli operatori del servizio forestazione della provincia. D'intesa con l'Asia. Questa mattina gli operatori si sono recati al Teatro Romano, al Trigio, in piazza Manfredi di Sveve, a piazza Orsini e in strade dei Mitrofe. Inoltre giovedì la zona Asi di Bonte Valentino sarà interessata da un'attività di lavaggio e sanificazione delle strade consortili. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone.